Il ritorno. Franz Kafka. Praga, 27 marzo. Un libraio di Praga che conosce la mia passione per gli autografi degli scrittori celebri mi ha offerto in vendita l'abbozzo inedito di un racconto di Franz Kafka. Avevo letto tempo addietro la traduzione inglese del suo processo e quella lettura mi aveva un po' annoiato e un po' entusiasmato. Ho voluto perciò dare una rapida scorsa al manoscritto. Sei paginette di appunti in lingua tedesca prima di pagare il prezzo forte richiesto dal libraio. Il ritorno, va in alto questo titolo, è la rapida traccia di un racconto che Kafka non ebbe mai la voglia o il tempo di svolgere. Un esente di assicurazioni, il signor Wubi vuol fare un lungo viaggio d'affari in Bohemia e deve lasciare sola la giovane moglie nella sua casa di campagna, a circa cento chilometri da Praga. Gli duole molto lasciarla perché l'ha sposata da poco tempo ed è sempre innamorato, ma il dovere e l'interesse lo costringono a partire. Il viaggio doveva durare sei settimane, ma per diverse cause, che Kafka non dice, il signor Wubi è costretto a star lontano due mesi. Finalmente giunge il giorno tanto deciderato del ritorno. Scende verso sera alla stazione più vicina alla sua casa, dove una carrozza, fissata con un telegramma, l'attende. Il signor Wubi ha concluso buoni affari ed è contento, ma soprattutto è contento al pensiero di riabbracciare dopo tanti giorni la sua buona e bella Maria. Arriva finalmente al cancello di legno del suo giardino. Ormai notte gli viene incontro il giardiniere con una lanterna. Si guarda intorno. Nulla è cambiato e tutto gli sembra nuovo. Il vecchio cane bianco lo riconosce e gli fa festa. La vecchia cameriera che l'ha visto bambino è sulla soglia della porta. Gli sorride, gli dà il benvenuto. Lei aiuta a togliersi il grosso pastrano nero da viaggio. Nulla di nuovo? Nulla di nuovo, signore. E la signora? Eccola che scende. Infatti, dalla scala di quercia che porta al piano superiore, scende una donna che saluta festosamente il signor Vubi. Ma questi, appena la donna è vicina, ha un moto di stupore. Invece di abbracciarla, indietrezza senza dir parola. Quella signora giovane vestita di velluto non è la sua Maria. Non è sua moglie. Maria è bruna come una meridionale, e questa ha i capelli di un biondo cenere. Maria è di media statura, è un po' rotondetta. Questa è alta, slanciata, magra. Eppure gli occhi sono gli stessi. La sconosciuta che tenta di abbracciarlo ha gli occhi di un azzurro chiarissimo, quasi grigio, mentre gli occhi di Maria, scuri e ardenti, somigliano a quelli di una creola. Eppure questa signora lo chiama a nome, con voce carezzevole, e gli chiede notizie del viaggio e della salute. Prende per forza una mano di Vubi e lo tira presso di sé e lo bacia con calde labbra su tutte e due le guanze. Un viaggiatore non riesce ad articolare parola. Gli sembra di essere entrato, invece che nella propria casa, nel mondo dei sogni, e vorrebbe che qualcuno lo svegliasse. Ma tutto, eccetto la nuova donna, è normale. La casa è sempre la stessa. I mobili sono quelli che ha lasciato. Il giardiniere, che ha portato le valigie, chiede ordini alla padrona. La cameriera tratta la sconosciuta come se fosse la signora Maria, e anche il cane le scodinzola attorno, abbaiando, come usava a fare alla sua padrona. Cos'è dunque avvenuto? Perché mai nessuno, al di fuori di lui, si accorge che questa donna non è la sua Maria? Sempre in silenzio, il signor Vubi seguì l'ignota su per la scala, fino alla camera coniugale. Anche qui tutto era come prima. La toiletta di Maria era sempre la stessa, con le sue boccette e gli altri oggetti a lui ben noti. Le vestaglie di Maria erano appese al solito attaccapanni. Nel ritratto di lui, Vubi, era sempre sul comodino della moglie. La nuova Maria approfittò del suo turbamento per abbracciarlo e baciarlo sulla bocca. Sentì che il profumo era sempre quello, a lui ben noto, esotico e acuto, benché il corpo fosse diverso. Sei stanco? Chiesa allora la donna. Vuoi riposarti un poco prima di scendere a cena? Mi sembri molto strano, molto cambiato. Perché sei così freddo con me che ti aspetto da tanto tempo? Ti è accaduto qualche cosa di spiacevole? Non ti senti bene? Vuoi un sorso del tuo liquore preferito? Ho tenuto sempre qui la bottiglia per quando tornavi. Non ho bisogno di nulla, disse finalmente il signor Vubi. Vorrei soltanto riposare un momento e riflettere quel che accade. Non posso ancora capire. Lasciatemi solo un momento. Come vuoi, rispose dolcemente la donna. Scendo in cucina per vedere a che punto è la cena. Ho fatto preparare i piatti che ti piacciono di più. Gli strissa una mano, gli sorrise ed uscì dalla camera. Il signor Vubi, così vestito com'era, si distese sul letto perché sentiva avvicinarsi una specie di vertigine. Non riusciva assolutamente a rendersi conto dell'inaudita avventura che gli capitava. Nel suo stordimento non sapeva trovare una spiegazione che lo soddisfacesse. Cos'era dunque avvenuto? Si era trasformato lui in quei due mesi d'assenza fino al punto di non riconoscere più la sua sposa amata. Oppure la sua Maria, senza che nessuno intorno a lei se ne fosse accorto, era diventata poco a poco, in quelle settimane, tutta diversa da quel che era prima. Oppure, ipotesi ancora più assurda e paurosa, la vera Maria era stata estromessa con la forza, forse uccisa con la complicità dei servitori. E un'altra donna, una donna che gli non aveva mai veduto ma che forse l'amava, ne aveva preso il posto. Queste supposizioni gli parvero ugualmente infondate e tentò di scacciarle dalla sua mente, ma non riusciva, per quanto fantasticasse, di trovarne altre più naturali e convincenti. Il signor Wubi non era un romantico e non aveva nessuna simpatia per le storie di Hoffman e di Poe. Prevalsa in lui, alla fine, il buon senso. Decise di far finta di nulla e di adattarsi almeno nelle apparenze a quella incomprensibile situazione. Avrebbe recitato la sua commedia, accettando e trattando quella donna ignota come se fosse stata davvero la sua Maria. Forse, con l'aiuto del tempo e con la tenacia dell'osservazione, sarebbe arrivato a scoprire la verità. Questa risoluzione attenuò il suo orgasmo, ma non acquietò il turbinio dei suoi pensieri. Quando la falsa Maria rientrò nella camera, il signor Wubi si alzò dal letto ed ebbe una nuova speranza. Mi parve nella penombra che fosse lei quella che aveva lasciata, ma per un attimo solo. Era la sconosciuta, l'intrusa. Riuscì agli aversi e la prese per un braccio. Si accorse con stupore che quel braccio, tiepido sotto la manica leggera, ricordava quello di Maria e ne ebbe quasi rimorso. La nuova sposa sembrava affettuosa, sollecita, gaia, elegante come la prima. L'esperienza che voleva fare gli appariva ora meno difficile, meno paurosa. Scettero insieme per andare a cena. Qui finisce bruscamente la traccia di Kafka e non è possibile immaginare la fine di questa enigmatica situazione, conforme d'altra parte al singolare ingegno di quello scrittore. Benché il racconto non sia compiuto, ho pagato volentieri le 200 corone che chiedeva il libraio.